del bene comune perché lo rapinano, parassiti dei diritti e delle libertà, si nutrono di questo paese sfaldandolo, smembrandolo, distruggendo qualsiasi cosa, questi parassiti sono il governo in questo paese il ministro degli interni, pensate domani, manifesta col suo partito in questa città e vieta a chiunque di contestarlo noi oggi qui stiamo, e questo è bene che i cittadini e le cittadine veneziane lo sappiano stiamo difendendo i diritti e le libertà, stiamo difendendo l'idea di democrazia non può esistere che un ministro degli interni, perché non gradisce chi lo contesta, vieti e militarizzi una città vieti l'espressione di un libero dissenso, basta, basta con questo paese ridicolo vogliamo un altro paese, vogliamo diritti e libertà per tutti